i bb pp 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 no black 182 non sono emo posso capire che miss you sia una gateway song che ti porta appunto a è a chinari domenica mi dispiace mi hanno salvato qualcuno devo andare da da cosa andare da liam mediarama beh certo che sta dipingendo aspetta vedere se ho un san arcana san no dobbiamo tornare da torniamo da 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 iukari da iukari l'elizabeth già ci sono già passato dalla fioraia dreamer ho già presi i semi le devo coltivare fondi persona non hanno messo la roba di persona 5 che puoi fare salire i livelli dei persona dandogli dell'impasto vero genbo resist colpo no amiche anche qui allora bildari persona sarà un cazzo nel culo di rimanere che percentuale 41 per cento che palle così bildare i persona sarà un casino cioè devo devo costruirmi persona cattivi prima di costruire il persona che mi interessa cioè devo costruire i persona più cattivi possibile andando poi a fonderli nel persona che mi interessa 35 resist win sì ma vuol dire farli fare comunque 5 livelli sono tanti eh se non posso fonderlo in maniera comoda genbo temperanza temperanza noi l'abbiamo maxato no temperanza che cazzo è la temperanza e bebe dobbiamo far salire bebe prima di poter fare sta roba chinari livello 3 quindi dobbiamo andare a chinari livello 4 bella sì su io eh meno male ma dire di sì 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 Grazie a tutti. Ciao, Marcy. Oh, rank 4. Di già. Sera. Oh, che bello. Uè. Tetto. Beh, meno non vanno male Pianta Le patate 12 giorni Ken Koromaru Eh, andiamo Koromaru è per uscire, giusto? Che se no andrei a studiare Se no col cazzo che facciamo Mitsuru Se lo portiamo a passeggiare che succede? Rischiamo di trovare qualcuno a caso? Incontri un social link a caso Non ne vale la pena Andiamo a studiare Fare salire le caratteristiche Alla priorità Lunes Scuola Yukari Eh, Junpei è innamorato Yeah Every day in young life Junesu Non possiamo ancora uscire con Yukari Possiamo uscire con Fuka Possiamo sbloccare finalmente Fuka Perfetto Eh, Fuka sia Tanto è primo rank Quindi non ci serve avere il persona dedicato Ehm 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 E' una merda Fa cagare Ma Genek è lo studente migliore del Giappone, certo Fuka Yamagishi Il social link di Fuka sembra Ho abbastanza coraggio per venire avvelenato Sì ma ci guadagnano una ragazza tipica giapponese Che scelta difficile Ok Ciao Ken Aspettiamo la penultima notte stavolta Ok Fuka Non c'è Poromaru Aiges E allora Oggi è lunedì Intelligenzia Andiamo a mangiare Che poi esistono le cuffie di Makoto Sono delle Panasonic Foni Per caso ho doppiato un personaggio in Hogwarts Legacy Sì sì un paio Doppiato un corvo nero e qualche altro personaggino minore Ciao Chronicle Tutto bene grazie Per noi BitConnect BitConnect È come un evocatore normale però è rosso No Questa frase non c'era in P3P Ho sbaglio Immaginati appunto Jesus with a gun che sbaglia gun Quindi Takaya Utilizza il metodo persona 4 barra persona 5 Per evocare i persona Nuove novità nuove Sì sì ma più che altro Riesce a collegare bene Perché in persona 4 e in persona 5 La gente non ha bisogno di un evocatore Però è per evocare il proprio persona Oh no Jesus with a gun Is deraged Martes Chi c'è oggi? Ah Chidori No È la prima volta che giochi il remake o stai facendo un'altra run? No è la prima volta che giochi il remake Non è la prima volta che giochi a Persona 3 Ma è la prima volta per il remake Ma sta bene Adesso ha i capelli di Jack O'Valentine Raga È un adolescente in preda alle tempeste ormonali Secondo voi perché? Chi c'è? Qui c'è il vecchio dentro un po' Che c'è il vecchio dentro un po' Che c'è il vecchio dentro un po' Ho giocato anche in Shin Megami 10 Sei solo parte del 3 e il 5 ecco qua oh io voglio che tu parli non puoi fare questo non solo dicendo questo perché sono preoccupato non voglio sentirti scusare il doctore sarà qui certo quindi sembra di aver trovato la tua voce domanda strana si ha diritto alla vendetta? no, hai solo diritto alla giustizia la vendetta esula dal diritto dell'individuo tramite la giustizia puoi avere rivalsa o soddisfazione ma raramente vendetta Chihiro Nozomi Koromaru vuole fare cose Chihiro rank 7 si, stiamo andando aspettare aspettare no appena detto li ha dati al professore dai quant'è il danno giovanotto? quant'è? 50.000 yen? 60.000 yen? ce li metto io deve esserci un malinteso eh non è una strana si ha diritto a costruire un cavallo di legno per riportare a casa la donna che si ama mmm credo che sia il gioco mobile di persona non mi interessa purtroppo penso di essermi gestito male ai social non ho portato al massimo tutto è normale è normale a una prima run perché molto spesso devi impegnare le serate in maniera non ottimale per alzare le statistiche e quindi dover ritardare la l'iniziale di determinati social link per poterli ottimizzare ma da ora è per aiutare un'amica poi appunto me li ridà cioè se se i soldi che doveva dare al professore li dà a me siamo a posto we have to do something some thing dai facciamo ci trasformiamo nella mystery machine facciamo lo scubidoo ci abbiamo già il cane chiamo un attimo okoromaru ah e dietro il ladro le cose si nasconde il professor takenozuka sì ce l'avrei anche fatto se non fosse stata per questi mocciosi scubidumidum cosa dovrei fare la vera domanda che ti devi fare è what would jesus do no non in persona 3 perché ricordiamoci che jesus has a gun ma poi io sono così con i proprietari di bookworms dammi un istante ci parlo io con bunkichi ciao fuka parlare con amada ma non c'ho voglia yukari con fuoco non possiamo fare niente dovrei fare l'appuntamento con ken devo alzare l'estazzo col cazzo che mazzo ipg mi dispiace ken mi dispiace ma io c'ho un'intelligenza da portare al massimo e una mizuru dopo puoi uscire il momento è troppo affollato e andremo in stanza a studiare povero ken e lo capisco però devo studiare cosa dice sono un po' preoccupato per amada dall'inizio del secondo quadrimestre sembra depresso a me non dice nulla quindi speravo che potessi andare ma no la cosa mi dice e shinji ha ammazzato mia sorella mia madre chi cazzo è no ne ha stanza sì se non sbaglio aumenta l'està poco rilevante solo di una solo una nota solo una nota non è vero che rispetto all'originale di chiare un po' meno stronzo è stata solo una mia impressione mi sembra uguale forse è una questione di voice actress di tono che veniva usato o come è stata diretta puoi farci yukari non possiamo yuko vediamo di finire yuko ehi ho bisogno di un motivo che mi faccia stare bene oh così chiudiamo yuko vuoi che porti io dimostrare una lettera dei bambi una lettera dei gagni grazie no solo se lo fai anche tu cosa voglio fare in futuro morire proverai a platinarlo non lo so let's go strength arcana al 10 atalaga ciao yuko uè da un po' fuka possiamo chiacchierare con fuka prima facciamo un salto da elizabeth per vedere se ci sono nuove quest no sempre loro quattro e allora piacchieriamo con fuka giusto papessa 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 ma possiamo morire in stile che nel guerriero non credo compendio grazie sarò sbatti is this acceptable very well it's yours very well we look buca anche se puoi occuparti dell'orti in autonomia facendolo con gli amici a terra e raccolte più ricco gli orteggi cresciuti con gli amici a terra in base alla persona con cui li ha coltivati mi dà qualche vantaggio farlo con qualcun altro intendo sul social link perché tendenzialmente delle piante non me ne frega un cazzo mi dà una nota allora lo facciamo mi dà una nota oppure no se mi dà una nota lo faccio gli oggetti ottengono un bonus ottieni nota per il social link allora va bene se mi dà la nota lo facciamo oh should we be measuring oh I looked up a bunch of stuff I do like flowers and stuff I've always wanted to try putting in oh sorry shall we keep working this looks good do you think I'll do more research so I'm se lo fai tre volte ti ha una specialità come la cucina e la tv quello non credo votare è sacco cosa significa? secondo te? cosa sono le note gialle? ti permettono di fare progredire il tuo livello di confidenza con alcuni personaggi e da bambino che sogno di fare il doppiatore ho un problema con la lettura che me la rende lenta dici pagine di romanzo lo leggo in un quarto d'ora e a volte leggo qualcosina male scambiando le parole questo può essere un grande ostacolo per questo lavoro un po' devi impratichirti nella lettura a prima vista devi capire anche se è dipendente dalla neurodivergenza o meno se sei dislessico o meno e in quel caso si chab purtroppo si può essere un grosso ostacolo per questo mestiere e come mio padre che purtroppo ha una gamba più corta rispetto all'altra e sa che non avrebbe mai potuto fare un'attività fisica di corsa ma sì grazie per il secondo me, per il terzo mese for three months in advance, grazie mille, bentornata Cidorita, sì l'ha chiamato Cidorita come on, lighten up here, I brought you a new sketchbook I don't remember asking you to do that Junpei you finally called me by my name I wasn't sure if you'd ever say it again why is she depressed? because of reasons perché la dobbiamo drogare Cidorita, sì Cidorita, sì la persona è proprio berserk Altro che Il persona super ninja Ninja disco frog Il tuo persona può uccidere? In persona 3 sì Mi piace di più la voce di Cidori del remake L'altra era troppo flautata Troppo Invece questa qua è Ci sta Non mi ricordo come si chiamava la sua persona Di chi? Di Yosuke o di Cidori? Di Cidori e Medea Di Yosuke e Jiraiya Che poi diventa Susano Cidori e Medea Era Susano quello di Di Yosuke Quando le ve lappava Non mi ricordo Sì Sì ok No non Yosuke 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 Dai Nettila 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 Nibarazzo Di Yosuke Perchè mi drogo? Come hai fatto Akiko a dirlo in verde? Non insegni Bravo Shinji Non devo dirti un cazzo Ma siete in mezzo alla gente Nettila Noi Noi non capisci 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 Nessun già Nessun anni fa Quando la orfanatura Non si è morta ma Kiko sono sei mesi che ha lo scotch attaccato alla testa togitelo no è che è un piercing al sopracciglio che non vuole saperne di guarire potevi dirlo all'inizio ciao Vapor Kaiyaba Kaiyaba oh finite le cose le lezioni con chi possiamo uscire ora che abbiamo chiuso anche Yuko c'è Ciro ma oltre Ciro ah Ciro a vuoto dobbiamo farci una Ciro a vuoto e facciamoci una Ciro a vuoto odio perdere i giorni non c'è lo scrittore morente no c'è solo la domenica a chi nari pipipipipipipi dimmi oh ok perfetto grazie Elisabet un bacio ciao ma tanto noi ci andremo il penultimo giorno Ricordi dei bibitoni Che bibitoni? Puka Che bibitoni? C'è una quest E' per quello che si salva prima Chiara Ah, c'è nuove richieste? No! Quante cazzo sono? Allora, sesto vecchio testo Possiedi un personale di livello 46 o superiore Possiedi Titania con l'abilità matarucage per apporto Rangda Titania, non ce l'abbiamo Quanto ci vuole per fare Titania? Cazzo, è grossa Titania Titania e degli amanti Titania è a livello 49 Sconfiggio un'ombra rara Portami un'oteghine Portami una bambola usata anche per insegnare Ah, lo scheletro dal coso di biologia Porta una tessera con dipinto un pavone Portami un coltello da frutta Mi sa che questo lo devo chiedere a Shinji Sì, infatti mi è scomparso Shinjiro E infatti Perché Shinji dovrebbe avere un coltello da frutta? Perché segretamente gli piace tanto cucinare Oh, hai finito leggere? It looked really when I got to the end I was so absorbed What an amazing fear I didn't notice at first But at some point I could suddenly Oh, they do say advanced technology is indistinguishable from magic I wish I could communicate Remember what I told you how I rec... Knowing what to say is important Molto vero Fuka Chi è? It's Chiara! Grazie per il cheer Pensavo fosse una nota interna al gioco Invece era Chiara che regalava dei leads Ok A te no debolezze riduci i danni subiti se si viene colpiti dalle proprie debolezze Grazie Fuka Due note per Fuka, ottimo Vendredì Best Waipu, mi spiace esiste Mitsuru in questo gioco Yukari Ma veramente maestà... non saprei Best Usbando? Molti direbbero usci in giro Nooo, Brunello Robertetti, nooo Cosa? Quale libro aiutò i progressi dell'arte magica durante il rinascimento? Il libro di Enoch? No, il libro... Il Corpus Hermeticum Dai, livellerà a breve il fascino Ok Possiamo uscire con Fuka Con Fuka Mamoru, tu aspetti le prossime vacanze per finire il social link Fuka, priorità Sì Sarà Svati Let's go Miau Mincio Certo Certo Fede Fede con il raidino Ciao ragazzi Benvenuti in Persona 3 Reload Eh no, al micio non piace Tranquillo Fede, non è spoiler Quello che stai vedendo è soltanto il... Il coso, il social link di Fuka Vai sereno Oh no, non di nuovo Oh no, non di nuovo Mi triggerà Chi è la... Chi è la... Chi è la ragazza di la porta, vivendo in la mansione Ma ora sgommo a letto Basta che sgommi nel letto e non sgommi nel letto Gabu Anche Gabu con il raidino Come è andata la magicanza Eh, Fede Si può, si può Fes Non voglio farti finire in ospedale Potremmo... Un boccone non mi ucciderà I'll figure out... I just wanted to do so There aren't many chances to eat homemade food So I thought it would be... I'm sorry Who's the girl next door living in the haunted mansion? You better learn my name cause I am Ashley me l'ha triggerata perchè c'è un punto nella canzone in cui si sente Ashley che fa oh no not again ma oh grazie per aver regalato un sabato abbiamo montato un mazzo criminale nel senso un mazzo che usa i criminali fuori legge proprio che è illegale da bastardi e grazie Mau per aver regalato un sab anche a Chiara Magi è normale che lei mi faccia tenerezza? Sì 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 I'm going to get going.